L'agricoltura biologica non è solo un modo di produrre cibo. Chi produce in biologico sposa un sistema complesso di valori che contribuisce a ridurre l'impatto delle attività produttive sull'ambiente e sul clima e tutela la qualità degli alimenti. L'agricoltura biologica nutre la terra e difende le culture da erbe infestanti e organismi nocivi solo con sostanze naturali che inquinano meno il suolo e l'acqua. L'agricoltura biologica impiega metodi di lavorazione non invasivi che mantengono il terreno vitale e preservano la ricchezza di biodiversità. Tutele il benessere degli animali assicurando spazi adeguati, accessi all'aperto e alimentazione con prodotti biologici. Rispetta l'identità del territorio perché predilige specie vegetali e razze animali tipiche del luogo e meno bisognose di cure. L'Unione Europea promuove l'agricoltura biologica ritenendola uno strumento indispensabile nelle politiche di protezione dell'ambiente contrasto al cambiamento climatico e transizione verso un'economia più verde sostenibile e competitiva. L'Unione Europea incoraggia gli agricoltori ad avvicinarsi a questo sistema di produzione con una specifica misura di sostegno pubblico. L'aiuto prevede un contributo economico per ogni ettaro di terreno coltivato in biologico. Anche le tue scelte di acquisto giocano un ruolo chiave per la crescita del settore perché premiano gli agricoltori che già adottano pratiche agricole e tecniche di allevamento biologiche. Come puoi fare la tua parte di bio? Prima di tutto impara a conoscere le aziende biologiche. Sono certificate da un organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e sono soggette a ispezioni periodiche per verificare che tutte le fasi del processo produttivo e di trasformazione dei prodotti rispettino le regole stabilite dall'Europa. Riconosci i prodotti biologici. Solo quelli certificati riportano in etichetta al marchio unico europeo dell'Eurofoglia presente in tutti gli alimenti prodotti all'interno dell'Unione Europea. Acquista biologico. I prodotti biologici richiedono più cura e mano d'opera. Per questo possono avere spesso un prezzo più elevato. Ma è il giusto compenso per l'agricoltore che sostiene maggiori costi di produzione.